Storie molto descrittive nella cultura indiana sul tipo di gioielli che le cortigiane usavano indossare. Questa spilla, se lei la tira, tutti i gioielli cadono a terra in un... Il karma è così, è una complessa rete di catene, ma c'è una singola spilla. Casomai tu la trovi, l'aspetto karmico cade giù ed esisti in quanto essere liberato. Karma Probabilmente una delle parole più fraintese. Di certo è diventata parte del lessico inglese oggi, ma fraintesa e malinterpretata in un milione di modi diversi. Una serie di cose. Il modo stesso, la natura del karma è proprio così, le sue interpretazioni. La struttura del karma è un caos molto complesso. Ma ci sono molte, come dire, storie molto descrittive nella cultura indiana sul tipo di gioielli che le cortigiane usavano indossare. Cioè, le cortigiane molto famose erano coperte d'oro e diamanti, niente vestiti, solo dei gioielli coprivano il loro corpo. Gioielli così complessi che quando gli uomini andavano da loro non avevano idea di come togliere questi gioielli perché era una rete così complessa di catene per quanto si sforzassero non riuscivano a togliere questi gioielli. I gioielli sono belli, ma per un uomo che la cui mente è scatenata con la passione questa è una barriera. Quindi, di solito, lei lo incoraggia a bere e bere un po' di più, un po' di più. Così che dorma, le regali altri gioielli e se ne va da casa. Ma quando lei vuole toglierli c'è una singola spilla normalmente collocata dove è il nostro Hanahata. Questa singola spilla se lei la tira tutti i gioielli cadono giù in un... proprio così, cadono giù. Il karma è così. è una complessa rete di catene. Alcune di esse, ovviamente decorate con diamanti, alcune sono brutte, alcune sono catene arrugginite. Ma... catene, catene, catene. Però c'è una singola spilla. solo perché non sei in grado di trovare consapevolmente quella spilla. La ragione fondamentale... lascia che te lo dica. La ragione fondamentale per cui c'è una cultura o c'è una tradizione di dipendenza da un guru per la propria crescita spirituale è solo questa. Che tu vuoi che lui stacchi la spina quando il tempo è maturo. Perché in questa complessa rete di catene non sai dove la spilla. non sai dove la spina Al momento, se cerchi di trovarla, puoi andare in cerca per sempre e non trovarla. E se la trovi, caso mai la trovassi, la smonteresti in un modo tale che smonteresti la tua stessa vita. Per smontarla abilmente così che solo l'aspetto karmico cada e tu esista in quanto essere liberato richiede tanta abilità. È per quell'abilità che tu giungi al tuo guru. È il tuo karma se devi sopportarmi. Se l'avessi capito da te, non avresti dovuto preoccuparti di me. Quindi, Sadhguru, quando staccherai la mia spina, questo significa che non sei ancora pronto. Se sei in uno stato in cui pensi che il tuo karma è un fardello e che devi sbarazzartene, non ne sei ancora pronto. se giungi a uno stato in cui hai imparato come trasformare ogni memoria, consapevole e inconsapevole, piacevole e spiacevole, quelle belle e quelle orrende, ogni cosa in benessere, se giungi a quello stato, allora sarà un bene che io tiri la spilla. Ora, se tu tiri la spilla, perché questa non è liberazione, è un'evasione, c'è una differenza tra uscire da questo corpo e suicidarsi. Sono due cose del tutto diverse. Suicidarsi significa che vuoi evadere da una situazione difficile. Uscire da questo significa il tuo periodo è finito, il tuo tempo è scaduto, quindi ti hanno rilasciato. Queste sono due cose diverse, completamente. Se evadi dalla prigione, dovrai scappare per il resto della tua vita. Ma se vieni liberato dalla prigione perché il tuo periodo è finito, allora sei un uomo libero. È una grande differenza. la lale, la lale, la lale, la lale, la lale. Oh, la lale, la lale. Soil, oh. Grazie a tutti.